Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Erburisteria Linfea. Oggi vi parlerò di una crema corpo Total Body a base di estratto enzimatico di bava di lumaca al 99%. Al suo interno contiene principi attivi biologici, quali succo di aloe vera, olio di mandorle, olio di avocado e anche acqua di rosa damascena. Ha un'azione elasticizzante, cicatrizzante, riparatrice cutanea, dunque va bene sia in caso di idratazione, per la pelle sensibile perché senza profumazione, dunque per i neonati o comunque bambini piccoli. Va bene per tutte le pelli, quelle più sensibili anche degli anziani e anche in caso di smagliature durante la gravidanza o post gravidanza, ma anche durante una dieta alimentare. Mantiene la pelle elastica e nutrita e idratata. È testato sui metalli pesanti e testato nickel, senza l'aggiunta di profumi di sintesi, coloranti o sostanze chimiche in generale. Seguite Erboristeria Laninfea sul canale YouTube, ma anche su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.